Rafael Grossi della IEA avverte che l'Iran non è del tutto trasparente riguardo al suo programma atomico, lanciato oggi un missile balistico a lungo raggio. L'Unione Europea si interroga sulla sua sicurezza. Una spesa militare di 240 miliardi all'anno non basta a fare a meno degli Stati Uniti. Un'altra concessione di Bruxelles agli agricoltori. La Commissione Europea concede l'utilizzo di quel 4% di terreni incolti che aveva imposto di lasciare a riposo. Dal palco The World Government Summit in corso a Dubai, Rafael Grossi, il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha avvertito che l'Iran non è del tutto trasparente riguardo al suo programma atomico. Grossi ha fatto riferimento alle ultime dichiarazioni dell'ex capo dell'Agenzia Nucleare Iraniana, il quale ha lasciato intendere che l'Iran ha tutto ciò di cui ha bisogno per costruire una bomba atomica. If Iran wants to have a nuclear power program, as they have, they can, and rightly so, no problem with that. But they have to have a system of inspections which is commensurate with what they are doing. and they keep not giving the answers and the cooperation that they should be extending to the agency. Il 13 febbraio, la TV di Stato iraniana ha trasmesso le immagini del primo lancio di un missile balistico a lungo raggio da una nave da guerra iraniana. L'Unione Europea si interroga sulla sua capacità di difendersi da sola dopo la minaccia di Donald Trump di non soccorrere in caso di attacco quei paesi della Nato che non investono almeno il 2% del proprio bilancio in spese militari, categoria in cui rientrano molti stati membri dell'Unione, tra cui l'Italia. Se Trump venisse eletto a novembre, la sicurezza europea potrebbe dunque essere a rischio. Secondo Mihai Sebastian Ciaia, analista dello European Policy Center, la dipendenza militare dagli Stati Uniti è ancora marcata sotto molti aspetti. Non è soltanto una questione di soldi. La spesa militare combinata dagli Stati membri dell'Unione ha raggiunto i 240 miliardi di euro nel 2022, molto meno degli Stati Uniti, ma più del doppio della Russia. Il problema è piuttosto la frammentazione. Ogni Stato spende per sé senza coordinarsi troppo con gli altri. Secondo l'Agenzia Europea per la Difesa, nel 2021, meno del 20% dei fondi per l'acquisto di attrezzature militari è stato destinato a progetti congiunti a livello europeo. Se la costituzione di un esercito europeo sembra oggi troppo complicata, l'obiettivo realistico di una difesa comune è migliorare l'interoperabilità, l'approvvigionamento e la fornitura di armi a livello europeo. Alcuni passi in questa direzione sono già stati fatti. Un fondo europeo da 500 milioni per finanziare la produzione di munizioni e un contingente da 5.000 uomini, operativo dal 2025, da dislocare in situazioni di crisi. Ma chiaramente serve un cambio di passo in un contesto geopolitico sempre più incerto. Quando hai una guerra di aggressione in Europa contro l'Ukraine, quando hai una guerra di guerra di Russia contro gli Stati Uniti, questo è il momento non per prezziare una guerra, ma per deterre il rischio di aggressione contro l'un di noi. Quindi, se non ora, non so quando l'europea defensa sarà davvero iniziato a essere seriamente in considerazione. Sullo sfondo, ma non troppo, resta il tema della deterrenza nucleare. Senza le migliaia di testate atomiche degli Stati Uniti, l'Europa potrebbe contare solo sulle centinaia a disposizione della Francia. Il Senato statunitense ha approvato un pacchetto di aiuti per Ucraina, Israele e Taiwan da circa 95 miliardi di dollari. Il disegno di legge ne include 60 a sostegno di Kiev nella guerra contro Mosca, soddisfatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il pacchetto dovrà ora attendere il voto della Camera dei rappresentanti, controllata dai repubblicani, contrario al sostegno economico a Kiev. I deputati conservatori, più vicini alle posizioni dell'ex presidente candidato alle primarie Donald Trump, hanno infatti promesso di respingere il disegno di legge. L'unica possibilità per evitare l'avanzata finale di Israele sul sud di Gaza sembrano i colloqui in corso in Egitto. Le parti coinvolte hanno esteso i negoziati per arrivare ad una tregua di sei settimane e a un nuovo scambio di prigionieri, il punto su cui manca però l'intesa. Per stanare Hamas a Rafa intanto, secondo il Wall Street Journal, Israele starebbe pensando di evacuare oltre un milione di palestinesi in 15 campi da 25 mila tende sulla costa. La mia speranza è che le negoziazioni per la scambio di ostagini e alcune forme di stagione di ostilità sia successivi, per evitare un'offensiva all'offensiva contro Rafa, dove il centro dell'esercito israeliano è locato, e questo avrebbe avuto delle conseguenze devastanti. Questo video pubblicato dall'esercito israeliano mostra un uomo identificato come il capo di Hamas a Gaza fuggire con la famiglia da una galleria sotto Kanyunis. Un altro video mostra il nascondiglio di Yahya Sinwar. Era dotato di tutti i comfort, di cibo e di molto denaro, milioni, secondo un portavoce militare. Da giorni gli Stati Uniti, pur garantendo il loro sostegno, hanno cambiato la retorica su Israele e sulla sua risposta agli attacchi del 7 ottobre. Martedì il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha fatto eco al presidente Biden. Sono morti, ha detto, troppi palestinesi, ormai oltre 28 mila. Bisogna rilanciare la priorità di fare dell'Europa una potenza di difesa con una maggiore capacità di sostenere l'Ucraina. È il messaggio che il primo ministro polacco Tusk ha portato a Parigi nel tentativo di rivitalizzare le relazioni del suo paese con i principali partner europei. La dichiarazione di intenti ha assunto un carattere urgente anche in seguito alla sortita di Donald Trump in campagna elettorale, secondo il quale chi non paga le quote Nato non dovrebbe avere difesa. L'Europa deve essere un continente sicurale. Questo significa che l'Unione Europea, Francia, Polsa muszą si stać państwami silnymi e gotowymi do obrony własnych granic, własnego territorio i do obrony i wsparcia naszych sojuszników i przyjació spoza Unii Europejskiej. Tusk si è poi diretto a Berlino. Anche in Germania le dichiarazioni di Donald Trump in corsa per un altro mandato alla Casa Bianca hanno fatto discutere. Senza mai nominare l'ex-presidente, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ribadito il ruolo difensivo dell'Alleanza Atlantica nei confronti di tutti i suoi membri. Nessuno può giocare con la sicurezza dell'Europa, ha aggiunto Scholz in occasione della visita di Tusk a Berlino. Gli agricoltori europei in protesta da settimane hanno ottenuto un'altra concessione da Bruxelles mentre continua la mobilitazione in diversi paesi tra cui la Spagna, la Polonia e la Grecia. La Commissione europea ha annunciato che permetterà ai coltivatori di seminare quel 4% di terreni incolti che Bruxelles aveva imposto rimanessero a riposo per motivi di tutela ambientale. Anche i governi nazionali stanno cercando di placare i lavoratori agricoli. Il primo ministro greco, Chiriakos Mizzotakis ha promesso di lavorare per trovare soluzioni. Ha però sottolineato che bisognerà tenere conto dei margini fiscali del paese. Instancabili gli agricoltori polacchi tra i primi a protestare ma contro l'importazione incontrollata dei prodotti agricoli ucraini. Dopo settimane un gruppo sta ancora bloccando i valichi di frontiera con l'Ucraina e dice che resterà lì finché non verranno soddisfatte le sue richieste. Virginium, l'ente che in Francia si occupa di disinformazione e interferenze digitali straniere ha dichiarato in un rapporto di aver scoperto una rete di manipolazione delle informazioni e propaganda riconducibile alla Russia. Portal Combat questo è il nome in codice per descrivere la rete racchiude 193 siti web che utilizzano il nome Pravda verità in russo e si rivolgono in particolare a Francia, Germania, Spagna, Polonia Regno Unito e Stati Uniti per diffondere narrazioni fuorvianti riguardo alla guerra in Ucraina. La rete coinvolge anche i social media tra cui Telegram attraverso una massiccia automazione della condivisione di contenuti. Una corte d'appello russa ha condannato a 5 anni di carcere il sociologo antiguerra e teorico marxista Boris Kagarlitsky per un post apparso su Telegram. L'accusa, avallata dai giudici russi è che l'intellettuale giustifichi se non favorisca il terrorismo. Kagarlitsky era stato già schedato come agente straniero nel 2022 ma in realtà ben prima di Putin il sociologo era stato un aperto critico di Yeltsin e delle oligarchie che hanno lucrato dopo la caduta dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. In Italia collabora con il manifesto.